Calzini! Vieni a provare i calzini! Ho tantissima fame! Sì, Jason, anche io, sai! Venite al caffè dei calzini! Cosa? Calzini? Che cosa? Il caffè dei calzini? Possiamo provarlo! Beh, perché no? Caffè dei calzini! Prego, venite! Ciao ragazzi, come posso aiutarvi? Posso avere una pizza? Certo, mi devi dare un dollaro! Ok! Grazie! Cosa posso offrirti? Vorrei delle ciambelle! Certo, è un dollaro! Ecco a te! Grazie, siediti io, preparo tutto! Pizza, pizza, pizza! Sì, ciambelle, ciambelle! Ancora ciambelle, sì! La pizza è appena uscita dal forno ed è così calda! Ha un aspetto delizioso! Mi vedi, mi vedi, sono qui! Bene, portiamola subito al cliente! Ecco la tua pizza! Buon appetito! Wow, pizza! Sembra bellissima, ragazzi! È ora di tagliarla a fette! Ed è questo lo strumento adatto! Ma non dimenticate che questo è il bar dei calzini, quindi ora tocca a loro! Che cosa sta succedendo? Che cos'è questo? Un calzino! Posso indossarlo? Sì, è un calzino! È un calzino con della pizza! Ma che cosa ci faccio con questo, ragazzi? Cameriera! Sì, vorrei qualcosa di diverso, grazie! Che vorresti? Vorrei del sushi, per favore! Ok, certo, porterò del sushi! Ho appena finito di fare delle fantastiche ciambelle! Guardate quanto sono belle! E hanno un sapore buonissimo! Portiamole al cliente! Ehi, posso prendere le ciambelle, per favore? Sì, signore, eccole! Wow, sono bellissime! Mi piaceranno davvero tantissimo, già lo so! È di nuovo il momento di un po' di magia, perché io sono la maga dei calzini! Sembra che sia successo qualcosa alle mie ciambelle! Che cos'è questo? Sono calzini! Non posso mangiare i calzini, ragazzi! Pensavo di aver ordinato una ciambella normale, invece sono calzini fatti di pasta sfoglia! Oh no! Ah, schifo! Cameriera, cameriera! Sì? Non voglio dei calzini a forma di ciambella! Scusa, allora che volevi? Posso avere un bel hamburger, per favore? Hamburger? Arriva subito! Il prossimo ordine è pronto! Ho preso del sushi e delle bacchette, guardate quanto sono belle! Ragazzi, sapevate che il sushi è il mio cibo preferito? Il sushi sta arrivando! Ecco a lei, signore! Il suo sushi e le sue bacchette! Grazie mille! Buon appetito! Sembra buonissimo! Lo mangerò! Oh, me ne ero quasi dimenticata! Oh no! E ora goditi il tuo sushi! Ne mangerò un altro, è buono! Miammi! Aspetta un attimo! Questo non è un sushi! È un calzino, scusa! Me lo proverò! Oh oh! Adesso ho un calzino al sushi ed uno a pizza! E ora ho un bellissimo hamburger per Alex! Andiamo! Diamo un altro morso! Ecco a te! Wow! Sembra buonissimo! Finalmente un vero hamburger! E non dei calzini! È ora di completare l'ordine di Alex! Sì, diamo un altro morso! Cosa? Fatto! Ma questi sono calzini hamburger! Guarda, ci sono anche dei pomodori! Oh ragazzi, guardate quanti calzini! Jason, andiamo via di qui! Forza! Ok Alex, fuggiamo! Forza! Ragazzi, ma dove state andando? Non volete un caffè fatto di calzini? O un wrap fatto di calzini? Fuggiamo via ragazzi! Dobbiamo sparire di qui! Immagino se ne siano andati! Bah, indosserò i miei calzini perché sono bellissimi!